buongiorno a tutti voi sul mio canale oggi sono una camera che mi aiuta a fare le riprese allora innanzitutto registrate dal canale e lasciate un like oggi voglio farmi dire come andrò a restaurare un lampadario che ha quasi 40 anni per terra da buttare dopo questa brillante idea sono riuscito a portarlo come nuovo quella è la versione restaurata adesso vi faccio vedere come come sono andato avanti con i lavori e ristaurarlo in questo modo prima il lampadario prima il lampadario ero in queste condizioni se il cameraman si avvicina vi faccio vedere in quale condizione era ho portato nella nuova versione anche la modifica del portalampato con il modello e 27 in questo modo utilizzata anche la lampada grande fette dentro si si nota e c'è un adattatore che porta la parte in vetro e più in alto esteticamente è brutto quindi adesso vado a smontare e andiamo a procedere con il lavoro a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.